Dopo l'exploade dell'inverno in cui sono stati il punto di riferimento per migliaia di escursionisti e dopo la pausa primaverile, i rifugi alpini presenti sulle Orobie Bergamasche stanno accogliendo i tanti turisti estivi, gli escursionisti e gli amanti delle passeggiate in quota che in numero crescente hanno scelto queste mete per trascorrere le proprie vacanze estive. Sono infatti molti quelli che decidono di trascorrere giornate nel silenzio e nella bellezza della montagna stazionando nei prati o che decidono di risalire i pendii e i sentieri delle nostre montagne. Abbiamo creato delle camerette, abbiamo creato le docce, acqua calda dappertutto, abbiamo creato dei pannelli solari, un impianto fotovoltaico e eolico che ci carica e ci dà corrente in tutto il rifugio. Usiamo forse il generatore un momento al giorno perché giustamente il 2,20 non riusciamo a produrre 5 kilowatt di corrente e usiamo il generatore, però l'abbiamo eliminato apposta per non inquinare, per non far sentire il rumore, per far sentire il turista a suo agio. I rifugi disseminati lungo tutto l'arco alpino tra i circa 500 sentieri per una lunghezza complessiva di circa 2000 chilometri offrono la possibilità di conoscere da vicino un territorio che è per buona parte ancora intatto. In questo contesto i rifugi non sono soltanto strutture per piacevoli soggiorni o per soste durante le ascensioni, ma assumono il ruolo di sentinelle della montagna e dell'ambiente. Paolo Valotti, presidente del CAI Bergamo, ricorda anche una caratteristica non trascurabile dei rifugi del CAI, il rapporto con l'ambiente attraverso la buona tavola. Il turista non è più il turista di 50 anni fa che arrivava nel rifugio e trovava, non so, una scodella di minestrone per dire una cosa, perché il minestrone si mangia anche oggi, fatto con la verdura fresca, non sicuramente con gli ufilisati. Perciò la cucina si va avanti e si cura meglio. Prepariamo diverse cose, diciamo, dal cous di agnello alla spalla al vin brulé. Ogni rifugio è connotato da propri sapori, con un'attenzione che richiama appassionati e buon gustai in numero crescente, che hanno scelto il territorio bergamasco per le proprie vacanze estive.